Natale, lasciarsi prendere sulle spalle. E' una immagine, chiedo scusa, che mi è venuta proprio in questi giorni, pensando alla fatica di tanti, ma anche alla gioia, all'incoraggiamento, alla forza che abbiamo ricevuto da tante persone. E subito mi sono ricordato di quell'immagine che troviamo nel Vangelo di Luca. Quando, dopo l'annunzio ai pastori, i pastori dicono, andiamo dunque fino a Betlemme. Allora, Natale è un andare, è un mettersi in cammino per andare verso Betlemme, per andare verso questo Dio che è nato per me, è nato per te, che nasce ancora domani, ancora poi domani e per sempre. Natale è un mettersi in cammino e quindi è in un certo senso anche abbandonare le nostre comodità, le nostre abitudini. Perché Natale ti deve scombussolare la vita, come ha scombussolato la vita di Maria, di Giuseppe, come ha scombussolato la vita dei pastori, come ha scombussolato la vita dei magi e di tutti coloro che sono andati e si sono messi in cammino verso Betlemme. Ma questa strada com'è? Cosa vuol dire oggi, appunto, mettersi in cammino? In questo Natale della pandemia è una strada in salita. Ma le strade in salita, sì, sono faticose, ma alla fine sono sempre la meta di qualcosa di bello. E allora come farci aiutare per andare verso Betlemme, verso le Betlemme della nostra vita, della nostra esistenza, attraverso queste strade in salita, c'è un'immagine molto bella. Dobbiamo avere nel cuore il desiderio di andare nelle Betlemme esistenziali, nelle periferie della nostra vita, nel nostro cuore, nelle nostre fragilità, nelle nostre paure, ma anche nei luoghi dove vivono i poveri, gli ultimi. Ma sono strada in salita. E allora sapete che cosa vuol dire Natale? Natale vuol dire lasciarci prendere sulle spalle da quel bambino. Sì, quel bambino, ma è fragile? No! Perché il Dio dell'amore, il Dio dell'amore è forza e porta sulle sue spalle ciascuno di noi. Ecco, arrendiamoci a questo bambino, arrendiamoci e facciamoci prendere sulle sue spalle e portarci verso il mondo, portarci nella storia, nella nostra vita, spesso, direi troppo spesso, fatte di strade irte, faticose, ma alla fine, se ci lasceremo prendere e se ci metteremo sulle spalle di quel bambino, noi troveremo ristoro, gioia, pace e serenità. Io vi aspetto domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti! Grazie a tutti!